Il Lecce soffre, lotta e vince e contro una regina fresca dopo il turno di riposo conferma la vetta della classifica, mandando all'avversario un segnale importante di squadra che non vuole lasciare nulla per strada. La regina parte benissimo e al quattordicesimo è già in vantaggio al Via del Mare, grazie a Bianchimano, abile nell'incrociare sul secondo paolo e battere Peluchini. Gli Amaranto dieci minuti dopo riescono anche a raddoppiare ancora con il numero nove che è imbeccato perfettamente da un compagno e non può sbagliare trovando 0-2 e doppietta personale. Al venticinquesimo si svegliano i Salentini con Torromino che accorcia le distanze con un preciso destro a giro dove Cucchietti non può arrivare. Così la gara si riapre con i giallorossi che trovano fiducia alla mezz'ora, guantano il pareggio con Ciancio che raccoglie la respinta lunga dell'estremo difensore Amaranto e trova il gol con un vero e proprio bolide che si spegne a fil di palo. Così in cinque minuti Lecce annulla il doppio vantaggio degli ospiti. La regina cala e allora a sovvertire le sorti del match ci pensa un chirurgico Zonev che direttamente la punizione non lascia a scampo al portiere confermando di essere in un grande periodo di forma con due reti spettacolari siglate nelle ultime due uscite. Nella ripresa gli ospiti accennano un attimo in reazione ma al 65esimo il signor Zingarelli di Siena estrae il secondo giallai danni di Mezzavilla per questo fallo commesso al limite dell'area su di piazza lanciato in contropiede. Da qui Lecce può controllare agilmente e sul finale sfiora addirittura il 4-2 con Bianchimano che servite in aria spara alto da pochi passi sprecando un'ottima opportunità. Padroni di casa che volano quindi a 4-36 punti la regina incassa la seconda sconfitta consecutiva e scivola all'undicesimo posto.